Musica Musica ...intiene tutta la mia esperienza di venditore, tutti i personaggi che ho conosciuto nel mondo dell'arte, come si formula il prezzo di un artista, quello che succede dietro le quinte, quello che voi non vedete mai e che nessun mercante vi ha mai raccontato. Musica Servirà ad arricchire la vostra collezione e a costruirla per il meglio. Adesso parlo io, compratelo, lo potete comprare nelle migliori librerie ma io vi consiglio di prenderlo da Amazon, in 24 ore ce l'avete a casa e state comodamente seduti sul vostro salotto. Musica Cari amici, va ora in onda a proposte di investimento a cura di Francesco Boni, che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Musica Amici carissimi, buona giornata, buona giornata, giornata straordinaria. Mi avverto che ci sono 25-26 opere a vostra disposizione, il prezzo oggi lo farete voi, oggi è una giornata dedicata proprio alla gara. Ci tengo a farvi vedere alcune opere che sono di grande interesse, vedete quello che è successo e quello che sta succedendo ancora stamattina ad Arte Fiera Bologna. I prezzi stanno andando alle stelle per le opere di qualità, per le opere di livello. C'è, ho visto, un angelo azzurro non bello come questo, non importante come questo di Tano Festa. Cioè quello che io vi sto dicendo da anni è che quello che conta è la qualità, non il nome e il certificato che ci deve essere di legge. Ma quello non conta nulla, ci deve essere di legge, basta, bisogna che ci sia. Ma non è che è il certificato che dà valore all'opera, è l'opera che deve essere qualitativamente rappresentativa dell'artista. Infatti vediamo dei Tano Festa storici, veri, belli, giusti a 70.000, 80.000, 90.000 e poi vediamo dei Tano Festa a 5.000, 6.000. Capito? C'è una differenza abissale. E questa è una delle opere storiche, questa è il mitico angelo azzurro, quindi che si rifà proprio alla cinematografia, alle opere straordinarie di Tano. Guarda che meraviglia di Tadini, guarda che meraviglia di Tadini. Ma oggi purtroppo non ho il tempo, perché? Perché le 25 opere vanno in gara, quindi il prezzo lo fate voi. Gabriele, però c'è una piccola modalità, cioè oggi va tutto in gara, quindi i prezzi li fanno i nostri amici, con la solita formula a difesa del committente, per cui solamente con la terza offerta l'opera entra in gara, e quindi ci devono essere almeno tre concorrenti diversi, per tre concorrenti diversi avverto che il centralino starà attento che la prima offerta non venga da voi, la seconda da vostra moglie e la terza dalla suocera. Capito? Capito, quindi devono essere tre offerte lontane, proprio di tre concorrenti veri, e praticamente non ci sono basi, non c'è nulla, il prezzo di ogni opera lo farete voi. Non ci sono, dato che non è un'asta ufficiale, non ci sono i diritti d'asta, quindi il prezzo definitivo è quello raggiunto in gara, non c'è da aggiungere i diritti d'asta o cose di questo tipo. L'unica cosa, Gabriele, credo che il pagamento deve essere fatto a vista, sbaglio? Entro 90 giorni. Entro 90 giorni, quindi o a vista o entro 90 giorni, quindi non possiamo dare un pagamento più lungo, vale sempre la finanziaria? Vale la finanziaria che vale come un pagamento a vista, e poi sarò cattivissimo, tanto il cattivo dell'azienda sono io, ovviamente c'è il diritto di recesso, è anche vero che chi partecipa, tanto per partecipare, levando poi l'opportunità agli altri, può usufruire del diritto di recesso, che è la parte più educata, o scomparire da domani, che è la parte meno educata, però non sarà più gradito nelle nostre iniziative, questo è normale, non si offenda poi. Hai perfettamente ragione, perché poi qualcuno dice, ah ma scusa allora lo puoi dare a chi ti aveva fatto l'offerta prima, prima di tutto vallo a rintracciare, poi anche psicologicamente non funziona una cosa del genere, lo capite perfettamente, interrompete una gara, quindi è scorretto, è altamente scorretto, non siate scorretti, essere scorretti significa non avere un'etica, non avere una morale, significa che del prossimo, di quello che accade al prossimo non te ne importa nulla, e questa è una brutta cosa, quindi non interpretatela così. Allora, vi faccio vedere immediatamente le opere, perché sono straordinarie, e cominciate a fare le vostre proposte economiche. Io vi ricordo quello che è il prezzo normale, in modo che quello che è il valore reale dell'opera, quello che è il prezzo che noi chiediamo tutti i giorni. Per esempio, puntualizzo, il diritto di recesso c'è, nel senso che ti arriva a casa l'opera che è rotta e fallata, ha dei problemi, e ci mancherebbe altro. Ovvio, tutto ciò che è diritto va rispettato, questo è ovvio. Se vi mando a casa un'opera che non è corrispondente a quello che avete visto, è chiaro che avete tutto il diritto di recesso, questo è più che evidente. Ma credo di essere stato chiaro, cioè cercate di evitare una partecipazione solamente emotiva e che non sia reale desiderio d'acquisto. Questa è la base. Allora, Davide Nido 40x40, ultime aggiudicazioni in asta 3.500-4.000. Questo è il prezzo di un'opera di Davide Nido così. Gioiello, 40x40, del 2009. Conoscete la storia di Davide Nido, che purtroppo è un artista che ci ha lasciato giovanissimi ed è uno degli innovatori, ed è uno di quegli artisti che sia nei materiali sia nella forma ha portato nel mondo dell'arte delle innovazioni fondamentali, primarie. Davide Nido è un grande, cominciamo a inquadrarlo bene, è un grande storicamente, è un grande culturalmente. E quando le sue opere vengono aggiudicate a 4.000, 4.500, 5.000 euro, è ancora un prezzo molto, molto basso. Fate le vostre offerte su quest'opera di Davide Nido. Al numero 2 c'è una delle opere più belle di un artista che sta ottenendo un successo clamoroso. è la famosa lei che si ispira al celeberrimo quadro di Antonello da Messina. E Mario Drudi, c'è stata la monografia in occasione della mostra veneziana, sta ottenendo successi in Italia e nel mondo, sia per i materiali usati sia per l'idea. Cioè questo naturalismo recuperato fino alla modernità. Questa è un'opera del 75 per 82 di Mauro Drudi, vale oggi, aggiudicazioni d'asta, 2.500, 3.000, questi sono i prezzi. Tocca a voi fare le vostre offerte. Poi ci sono due, tre mostri sacri. Un'opera vera di Pietro Annigoni, una sanguigna vera di Pietro Annigoni, perché le ho viste in trasmissioni televisive, tutte false, tutte false. Pietro Annigoni è uno dei più grandi artisti della figurazione che abbiamo avuto nel dopoguerra. Pietro Annigoni, le opere sono nei più grandi musei del mondo, a patto i ritratti al re, a regina, alla regina Elisabetta. Quindi è uno degli artisti di figurazione più quotati del mondo. Quindi tutto quello che trovate di Pietro Annigoni a piccole cifre sono boiate, pazzesche, false, mettetevelo bene in testa. E spesso e volentieri un quadro falso è accompagnato da che cosa? Maria? Da un'autentica falsa. Questo è naturale. Opera preziosa di Annigoni. Queste sono le sanguigne vere, valgono 5.000, 6.000, 7.000 euro. Opera del 1982, straordinaria di Annigoni. E visto che parliamo dei grandi pittori della realtà, uno dei disegni preparatori più belli, più affascinanti, eseguito nel 1955, un carboncino di Schiltian da urlo, da urlo, letteralmente da urlo, opera del 55 di Gregorio Schiltian, 40 per 28,5, che proviene dalla sua collezione personale, cioè erano i bozzetti per le grandi opere che lui teneva nella sua collezione personale. Vale 5.000, 6.000 euro. È un'opera preziosa di Gregorio Schiltian. È un'opera straordinaria di Gregorio Schiltian. Ed è in attesa delle vostre proposte. Quest'angolo, Davide Nido, Pietro Annigoni, Schiltian, sono opere straordinarie, sono opere superiori, sono opere museali da non perdere. Guarda Sughi Vero, una tela di Alberto Sughi storica del 64, 70 per 60, quanto vale? Sono i sughi beconiani, sono i sughi veri, sono le opere di Sughi strepitose, una tela meravigliosa, questa ragazza che fuma, 70 per 60, che quando vi chiedo 5.000 euro vi chiedo nulla. Opera preziosa, meravigliosa di Alberto Sughi, qui pure le vostre proposte economiche. Poi, un artista che adoro, dai tempi in cui a Milano faceva le mostre da Cafiso, nelle grandi gallerie milanesi, questo Paese sotto la pioggia, una delle opere più emotive, una delle opere più affascinanti, Ad olio su tela, di Franco Gognoni, è un'opera del 1978, 55 per 46, se la valuti 4.000, 5.000 euro, la valuti niente. Olio su tela prezioso, di Franco Gognoni, opera che a 5.000 euro è regalata, veramente un gioiello di Gognoni. Poi, un artista che adoro, questa è una gemma, sono i famosi muri ciechi a Parigi, che Sante Monachesi dipingeva nel 1968. Il 99%, guardate, Monachesi, quando io ero giovanissimo, era uno dei pittori d'avanguardia intellettuale, uno dei pittori più pagati degli anni 60, costava una marea di soldi e oggi le opere vere di Monachesi, perché di Monachesi non si trova nulla sul mercato, se volete un'opera autentica di Sante Monachesi, dovete andare da Luce Monachesi, la figlia di Monachesi, che ancora propone le opere storiche del padre, ma vi chiede quello che valgono, un'opera così, 5 mila, 6 mila, 7 mila euro, come minimo, come minimo. Poi ci sono i falsi Monachesi, che sono storici, vengono proprio dagli anni 60, e naturalmente non costano nulla, sono falsi. Questa è Monachesi vero, Parigi, 1968, vale almeno 5-6 mila euro, minimo, 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 olio su tela prezioso. E poi ce ne andiamo nel mondo della pittura internazionale, lì dove i prezzi volano a cifre pazzesche, uno dei grandissimi, guarda che meraviglia, questo oltre la soglia del 2011, una delle opere storiche di Xiaoxin. Quanto vale Xiaoxin? Quanto costa Xiaoxin? Nelle mostre internazionali? È uno degli artisti che ha conquistato i musei di tutto il mondo, riportando in evidenza i prodromi della cultura orientale, cioè quell'animismo che domina la cultura orientale fin dal 500. Oltre la grande soglia, tecnica mista, meravigliosa, 43,5 per 68 del 2011 di Xiaoxin, queste non si vendono a meno di 15 mila euro. Questo è il valore a livello internazionale di un'opera del genere di Xiaoxin. Noi vi mettiamo a disposizione oggi delle opere da sogno a condizioni di prezzo che fate voi. Cominciano ad arrivare le telefonate, cominciano ad arrivare le prime offerte, ma sono, capisco che sono interlocutorie, ma sono ridicole rispetto al valore delle opere. Xiaoxin oggi vale tanti, tanti, tanti soldini. E al numero 9 c'è uno dei mitici cromoplastici di Lorenzo Piemonti, altra opera di qualità assoluta, altra opera di livello storico assoluto, altra opera da urlo. 50 per 50, l'uso dei materiali, le cromocomposizioni tipiche di Lorenzo Piemonti vale 3.000-3.500 euro. Opera preziosa, anche questa in gara libera. E poi uno degli artisti che adoro, uno degli artisti che amo alla follia, un'opera del 1963 di Luigi Montanarini, uno dei grandi pittori astratti della storia contemporanea, uno dei grandi artisti dell'astrazione della contemporaneità. Purtroppo scomparso da anni del Novecento, ma uno dei più grandi artisti astratti del XX secolo, grande maestro, grande professore, quindi sapete tutti quello che vale un'opera del genere di Montanarini. E poi, attenzione perché c'è un altro while. Oggi nel mondo l'artista tedesco che sta riportando la pittura tedesca ai vertici del mercato internazionale è Marcus Willeck. C'è stata una mostra in Italia di Marcus Willeck a Brescia qualche anno fa e quest'opera proviene da quella mostra. Oggi per le opere così, queste sono le famose finestre spezzate, sono i ricordi della guerra di Marcus Willeck. È un artista ancora giovane, ancora della media generazione, ma è uno dei più grandi pittori di figurazione della contemporaneità. Un olio di Willeck, piccolino così, 40 per 26, è un'opera da 10.000 euro a livello internazionale. È un'opera da 10.000 euro a livello internazionale. È un'opera preziosa di Marcus Willeck. Mi raccomando i collezionisti, Willeck e Xiaoshin sono i nomi che stanno conquistando il mercato mondiale. Come pazzesco è il grande anno palosuo. Le sue memorie, i suoi ricordi dalla memoria, soprattutto le tele come quella che state leggendo, soprattutto quei dipinti sulle tele povere ricavate dai sacchi di caffè che vengono dal Brasile, restano nella storia della figurazione quanto di più emozionante l'arte contemporanea proponga. Tre, quattro biennali di Venezia per il finlandese Hannu Palosuo e mostre in tutto il mondo. Uno degli artisti figurativi più apprezzati dalla storia contemporanea. Un'opera enorme, questa è un'opera di un metro e venti per ottanta, la devi valutare 7-8 mila euro come minimo, opera preziosa di Hannu Palosuo. e poi Sua Maestà Mario Schifano. Poi Sua Maestà Mario Schifano con due gioielli. Oh, andate a vedere quello che sta succedendo oggi a Bologna su Mario Schifano. Ormai le opere anche degli anni Ottanta di qualità di Mario Schifano sono a 120, 130, 150 mila euro. Qui ho una delle opere più tipiche di Mario Schifano, 76x55,8, un monotipo ritoccato a mano le opere oggi ambitissime di Mario Schifano che riprende i temi delle mitiche ninfee e poi sempre di Mario Schifano ho una di quelle schegge autografe piccoline ma che adoro proprio perché c'è l'idea primaria, perché c'è l'autografia, perché c'è la mano magica di Mario Schifano. Due gioielli di quest'artista. E poi, Emilio Tadini, un ritratto addirittura del 1977, 54x65, che quando vi chiedo 8 mila euro vi chiedo nulla, Tadini e Adami, cioè quei protagonisti della pop art italiana che hanno portato il linguaggio pop italiano nel mondo. Adami e Tadini, sono i due artisti chiave con concetto pozzati che hanno portato il linguaggio del pop italiano nel mondo. Opera di Tadini da 10 mila euro come minimo. E poi il mito, la leggenda. Quello è un quadro che oggi vale 25 mila, 30 mila euro. E' il mitico angelo azzurro pazzesco di Tano Festa. Ma mitico. E' il quadro 80% del 1986 di Tano Festa. Una delle opere più famose, però io vedo sempre Emilio Tadini. O sbaglio io? Eccolo qua. Una, fallo vedere per intero perché il mitico angelo azzurro è uno dei quadri celeberrimi di Tano Festa, è uno dei quadri mito di Tano Festa, è uno dei quadri leggendari di questo straordinario artista il cui corpus dell'opera autografa deve essere completamente rivisitato. o quello che sta succedendo sulle opere autografe di Tano Festa significa portare questo artista a centinaia di migliaia di euro. Questo è il quadro celeberrimo. Questa è una delle opere più famose, più importanti di Tano Festa. Quanto vale? Se fosse oggi a Bologna, in artefiera, ti chiederebbero 30 mila euro, 35 mila euro. Sono i Tano Festa autografi storici, quelli che ci fanno emozionare, quelli che danno un peso storico assoluto all'opera di quest'artista. E poi un'opera deliziosa, raffinatissima, elegantissima. Questo è Aldo Nicolini, che propone una vela per nessun mare come omaggio a Mario Schifano. Come omaggio a Mario Schifano. Nicolini è stato un artista assolutamente genuino, affascinante, che si è innamorato proprio dell'opera di Mario Schifano. Grande gioiello, 100% opera di grande qualità. E poi ritorniamo nel mito internazionale con un'opera pazzesca di Wang Keiwa del 2013, 80 per 60. 80 per 60, opera storica, opera pazzesca internazionale di Wang Keiwa. Vale 3 mila euro a buttarla via. 3-4 mila euro a buttarla via. Poi, le gemme di Ennio Finzi. Le gemme di Ennio Finzi, che sono le traduzioni pittoriche delle grandi sinfonie, delle grandi opere musicali. Questa è un'emozione musicale. è letteralmente un'emozione musicale. Ascoltando Scriabin, sono le opere di Ennio Finzi, che oggi tutta la cultura italiana ed internazionale vuole. Se la valuti 2.000-2.500 euro, la valuti nulla. E poi, Sua Maestà Franca Pisani. Sua Maestà Franca Pisani, con un fondo oro invaso da una Posidonia mediterranea. Una tela pazzesca di Franca Pisani, un metro e quaranta per settanta. E sapete quello che sta avvenendo su quest'artista. Oggi viene considerata un punto fermo nella cultura mondiale della contemporaneità. Colei che ha raccontato la storia e l'evoluzione della pittura dal paleolitico ai giorni nostri, passando dalla poesia visiva, alla pittura analitica. Questa è un artista che sta volando verso mete internazionali paurose. Vale una montagna di denari. Poi abbiamo una gemma di Antonio Murgia, 100%, una delle opere vere, una delle opere storiche, una delle opere superiori. Tu dici che è orizzontale? Ah, sì, 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 c'hai ragione. Allora lo rivediamo, la Wang Kehua era messo male, era in orizzontale, era in verticale, adesso lo rivediamo. Lo sai che credo che questa sia anche pubblicata? credo che sia anche pubblicata in occasione della mostra di Murgia alla Biennale di Venezia. Lo confermo, quell'opera è pubblicata. Lo confermi, l'opera è pubblicata in occasione della mostra di Antonio Murgia a San Serbolo, alla Biennale Veneziana. Pezzo da collezione. Ti chiede, vai dall'artista, ti chiede 4 mila euro. Poi, una rarità, una rarità, uno dei mitici progetti senza tempo di quell'artista che ha rinnovato Milano e che dal punto di vista architettonico rinnova il mondo. Questa è un'opera di 20 anni fa, prima del ricupero della Bovisa che ha reso celeberrimo Jonathan Guaitamaki nel mondo, una gemma di Guaitamaki che poi è uno di quegli artisti che racconta il rinnovamento metropolitano di Milano e delle grandi città legate allo sviluppo dell'economia del mondo. opera preziosa, introvabile, vale un sacco di soldi ed è una gemma di Guaitamaki. Poi, amici, gli artisti che tutti vogliono, gli artisti che adesso stanno volando, quanto chiedono oggi per le opere di Piero Gilardi? quanto costano oggi quelle strepitose composizioni polimateriche e policrome di Piero Gilardi? Questa è un'opera del 2001, questa è un'opera del 2001, questo rinnovamento ecologico di Piero Gilardi, 70 per 70, ecco, ci sono più stand adesso in arte fiera che propongono le opere di Gilardi così, un'opera come questa 70 per 70 di 20 anni fa ti chiedono 24, 23, 24 mila euro. È in gara libera, è in gara libera, come tutte le opere che vi sto facendo vedere. Amici, dovete sapere approfittare dei momenti straordinari che si propongono oggi, opera preziosa di Piero Gilardi e poi vi porto nel mondo, questo è il futuro, proprio il futuro raccontato da Liubolin, un'opera strepitosa di Liubolin, iperpubblicata, iperpubblicata, 75 per 150, 75 per 150, una delle opere più famose di Liubolin nel mondo. Quando un'opera di questa dimensione, anche qui c'è lo stand dedicato a Liubolin ad Arte Fiera, vai a chiedere un'opera del genere di Liubolin, 75 per 150, ti chiedono 30 mila euro, ti chiedono 30 mila euro. In gara libera un'opera di Liubolin di questo livello. Non importante, strepitoso, 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 oggi Arte Fiera minimo 30 mila euro, veramente opera strepitosa. E chiudo con una gemma, la grande pagina del 1993 di Alessandro Algardi, del 70%, che chiedo alla regia di far vedere compiutamente, perché qui siamo nel mondo dei sogni, qui siamo nelle mitiche opere calligrafiche di Alessandro Algardi, che oggi Opera Galleri ti propone a 15 mila, 18 mila, 20 mila euro. Alessandro Algardi è il mito delle opere calligrafiche, è già arrivato al Gogenheim, è impossibile comprare opere di Algardi se non a decine e decine di migliaia di euro, quindi con orgoglio vi faccio vedere un'opera di Algardi di questo straordinario livello. Amici, tocca a voi, è una giornata magica, è una giornata letteralmente straordinaria, sappiate approfittare, vedo che al centralino c'è una gran bagarre, quindi evidentemente giustamente arrivano numerose le vostre telefonate, quindi adesso chiederò aggiornamenti al centralino e già me l'aspetto Laura, le vostre offerte saranno molto modeste rispetto ai valori delle opere che vi ho fatto vedere. Adesso chiederemo ragguagli al centralino e cominceremo le gare proprio partendo da quelle opere che hanno già ricevuto le tre proposte iniziali di rito. vediamo la situazione al centralino e così cominciamo le gare e le assegnazioni. allora il centralino non è ancora pronto sì state raccogliendo state raccogliendo le proposte state raccogliendo di non fare sì perché il cron sotto va bene ma se mi arriva l'offerta non è che la aggiorno in tempo reale vediamo 30 secondi per aggiornarla quindi c'è polemica ah no ma io ho visto che sotto che stanno amici devono stanno lavorando stanno lavorando vi ringrazio per la partecipazione per le offerte ah vi volevo far vedere che c'era stato un errore espositivo l'opera di Wankewa è in orizzontale non è in verticale come ve l'ho fatta vedere poc'anzi è la stessa opera però giustamente hanno corretto la posizione c'era stato un errore di posizionamento quindi l'opera è come la vedete adesso in orizzontale e non in verticale opera preziosa di Wankewa poi amici miei c'è da impazzire l'Algardi gli Ubolini il Gilardi il Guaitamacchi l'opera della Pisani pazzesca e sapete quello che sta accadendo su Franca Pisani la gemma strepitosa uno dei quadri storici uno dei quadri epocali uno dei quadri da Biennale di Venezia di Tano Festa quell'opera di Emilio Tadini di una bellezza di una qualità letteralmente straordinaria gettonatissimo il Gilardi perché quello che sta accadendo in artefiera come su Tano Festa come su Schifano i prezzi su questi artisti stanno letteralmente volando io sono questa è una delle opere più rare questa è una delle opere più belle di Anno Palosuo uno di quegli artisti di figurazione che non solo oggi sono rarissimi ma che ha quattro biennali di Venezia alle spalle quattro biennali di Venezia alle spalle sta diventando uno degli artisti di mercato amplissimo perché il mercato di Anno Palosuo è in tutto il mondo è in tutto il mondo poi comprare Willeke è come aver comprato Kiefer Willeke è uno di quegli artisti che ritroverete a cifre da paura come Kiefer siamo di pronte ad un artista geniale del quale in Italia non abbiamo nulla pochissime opere straordinarie che vengono quasi tutte dalla mitica mostra di Brescia ma poi altri contatti col mercato italiano Willeke le ha solamente nelle più grandi collezioni quadri venduti a centinaia di migliaia di euro questa è una gemma di uno dei suoi cicli più affascinanti Montanarini da sogno Montanarini da sogno un'opera di Xiaoxin che non trovate assolutamente in Italia la gemma di Monachesi quel gioiello di Rognoni guardate che cos'è questo gioiello di Monachesi la gemma di Rognoni quelle tre opere di figurazione Annigoni Storico Schiltian del 55 e opera preziosa di Alberto Sughi e opera strepitosa di Alberto Sughi tre opere letteralmente fantastiche poi quella gemma di Nido quella gemma di Davide Nido rarissima letteralmente introvabile e quella bella emozionante opera di Mauro Drudi di Mauro Drudi veramente interessante amici qui dobbiamo cominciare le gare vediamo un attimo un aggiornamento vero un aggiornamento vero perché obiettivamente il tempo passa e abbiamo poi il tempo per le gare molto limitato quindi chiedo al centralino un aggiornamento dei prezzi ci siamo dimmi tutto chiedo intanto scusa anche a qualche amico che scrive così l'inizio è sempre caotico da morire perché arrivano tutte le offerte tutte insieme e noi siamo solamente tre e allora numero uno Nido siamo a 1200 euro in seconda offerta allora seconda offerta per Davide Nido eccola qua 1200 contro un prezzo normale di 4000 a 5000 euro ricordiamo ai nostri amici qualcuno chiamava poco fa giustamente magari non ci conosceva non conosceva quelle che sono le nostre dinamiche che si entra in gara alla terza offerta esatto e poi un'offerta una prima offerta per Schiltian di 400 euro il numero 4 scusami il numero 4 lo Schiltian 400 euro no no assurdo 400 euro per lo Schiltian almeno 2000 almeno 3000 Schiltian del 55 400 euro seconda o prima offerta prima prima offerta poi prima offerta anche per il sughi di 1000 mamma mia me l'aspettavo però 1000 euro per il sughi 900 euro per il monachesi vabbè 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 irriverente poi per Xiaoxin siamo in seconda offerta sono arrivati 1600 e poi 1800 seconda offerta 1800 seconda offerta anche per montanarini sono arrivati prima in 600 e poi in 700 seconda offerta per montanarini poi timidissima prima offerta per Palosuo di 1400 euro 1400 prima offerta per Palosuo timida anche il bonattire di Schifano parte da 2006 prima o seconda prima e consideriamo che è un pezzo unico prima offerta e prima offerta anche per la scheggia di Schifano siamo a 1400 1400 prima offerta per la scheggia di Schifano 3000 euro in prima offerta per il Tadini mamma mia e per il Tano festa guarda abbiamo parlato qualche minuto al telefono alla fine abbiamo concordato di partire da 4 e 4 4 e 4 prima o seconda offerta e prima 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 offerta assolutamente prima arrivo subito poi 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 che ua 300 euro mamma no ma veramente non si possono ascoltare certe offerte eh one che ua 300 euro poi la foglia rame di Pisani siamo in seconda offerta a 2005 2005 seconda offerta per la Pisani Murgia siamo sempre in seconda offerta anche qui siamo a 900 euro poi Girardi seconda offerta anche qui siamo a 7500 prima offerta per Liubolin di 10.000 e qua anche Maria si è dovuta impegnare perché vogliono partire da 2000 ma abbiamo fatti ragionare poi al Gardi siamo in seconda offerta 1500 pazzesco pazzesco amici abbiamo molte seconde offerte ve le ripeto perché sono le opere sulle quali con la terza offerta entriamo in gara e dato che ho fretta di entrare in gara e fatemi immediatamente la terza offerta sul Davide Nido siamo a 1200 in seconda offerta numero 1 Davide Nido a 1200 euro poi sull'opera di Xiao Xin in seconda offerta l'opera di Xiao Xin è la numero 8 siamo a 1800 euro ne vale almeno 8 mila quindi entriamo velocemente in gara per il gioiello di Montanarini in seconda offerta il gioiello di Montanarini è il numero 10 in seconda offerta siamo addirittura a 700 euro amici dai non è ingeneroso è indegno è indegno quindi cerchiamo di entrare immediatamente in gara poi per le seconde offerte arriviamo al numero 20 con il fondo oro di Franca Pisani che non è a 8000 euro ma è a 2500 euro a 2500 euro poi l'Antonio Murgia pubblicato in seconda offerta è a 900 euro il Gilardi che vi chiedono 20.000 euro dappertutto andate quello che sta succedendo stamattina a Bologna è in seconda offerta a 7500 euro quindi a un terzo di quello che vale a un terzo di quello che vale oggi in seconda offerta e poi la grande pagina di Alessandro Algardi non ne parlo nemmeno non lo dico nemmeno perché il prezzo è come dire sotto zero sotto zero allora qual è l'opera che entra in gara allora adesso facciamo rivedere l'opera della Pisani la Posidona Mediterranea su fondo oro che amici sapete quello che sta accadendo su Franca Pisani allora Franco eccoci siamo in terza offerta per la Pisani a 2700 euro allora la la Pisani entra in gara a 2700 euro poi intelligente la gara che c'è su Algardi perché non vanno di 200 in 200 ma capiscono che siamo talmente tanto sotto prezzo che vanno oltre infatti è arrivata un'offerta che è ancora bassa ma di 2,2 che però stacca i 1,5 della seconda offerta quindi entra in gara l'Algardi a 2,2 entra in gara adesso Girardi 8,000 tra l'altro ed entra in gara Montanarini a 800 euro entra in gara anche il Montanarini a 800 euro quindi abbiamo tante opere in gara cominciamo da che cosa Maria? nulla intanto prima offerta ricevuta anche per Villeche da 300 euro Villeche quanto? 300 euro vai dalla Pisani mamma mia i Pisani siamo a 3.000 posso fare posso fare io un'offerta per Villeche faccio 1.000 euro io faccio 1.000 euro io perché anche i miei soldi sono uguali ai vostri Pisani siamo a 3.000 la Pisani siamo a 3.000 euro ed è vostra e siamo in gara siamo a 3.000 euro ed è vostra amici mi raccomando una volta assegnato non c'è più nulla da fare questa è un'opera che oggi a meno di 9.000 10.000 euro dimenticala siamo a 3.000 euro e sapete perfettamente cosa accade su Franca Pisani il 15 di marzo andate a vedere il sito ufficiale del museo degli uffizi siamo a 3.000 euro dimenticate la possibilità di acquisire opere di Franca Pisani a prezzi del genere e soprattutto un'opera di questo impegno di questa qualità 3.000 euro per la prima 3.000 euro per la seconda vi do 20 secondi per l'assegnazione e poi non c'è più nulla da fare 3.000 euro per la prima 3.000 euro per la seconda ci fermiamo qui assegno a 3.000 euro amici assegnata a 3.000 euro ma è un delitto siete iperfortunati siete iperfortunati ma questa giornata la ricorderete per tutta la vita allora altra opera che è arrivata la terza offerta è arrivato il rilancio ma è tardi scusami Gabriele è arrivato il rilancio per l'opera di Franca Pisani amici è troppo tardi è troppo tardi è troppo tardi quando c'è il buco e vi assicuro che altre opere di Franca Pisani a un prezzo del genere non le avrete mai 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 più allora altra opera che è entrata in gara ditemi voi l'Algardi sì però ci sono 25 quadri da fare entrare in gara quindi siate veloci siate veloci perché queste opportunità capitano una volta nella vita l'Algardi se andate da lui siamo a 2200 euro ed è la grande pagina un olio su carta pergamenata del 1993 70% se andate da lui meno di 12.000 euro non lo comprate ma è la verità ma è la verità se andate a Opera Gallery ve ne chiedono 18 siamo a 2200 euro ed è vostro siamo a 2200 euro ed è vostro scatenatevi scatenatevi con le offerte e vi posso dare un consiglio usate il telefono usate il telefono perché i messaggi per le gare in asta sono troppo lenti usate il telefono 2002 per quell'opera preziosa di Alessandro Algardi 70% non 18 per 24 70% 2002 per la prima non fate come per la Pisani che poi le offerte arrivano troppo tardi 2002 per la prima 2007 2007 2007 per la prima 2007 per la seconda 2007 2009 2009 c'è un margine pazzesco 2009 per la prima 2009 per la seconda amici 3 e 2 3.200 euro 3.200 euro mi iper raccomando 3.200 euro per la prima 3.200 euro per la seconda 3.400 euro 3.400 euro per la prima una volta assegnato non c'è più nulla da fare Algardi lo dovrete comprare da Opera Galleri ai prezzi di Opera Galleri 3.800 euro 3.800 euro 3.800 euro per la prima amici o adesso o mai più 3.800 euro per la prima 3.800 per la seconda 3.800 euro faccio arrabbiare Algardi faccio arrabbiare Opera Galleri ma state prendendo un gioiello 3.800 per la prima 3.800 per la seconda posso assegnare? 3.800 assegnata regalata l'opera di Alessandro Algardi iper complimenti c'è quel Liubolin che se lo perdete non avrete mai più la gioia di poter comprare un'opera di Liubolin a prezzi del genere opera preziosa di Liubolin opera straordinaria e poi l'ultima opportunità come siamo sul Gilardi Gabriele siamo in gara a 8.000 euro siamo in gara è la terza offerta però c'è ancora movimento sull'opera di Gilardi entra in gara a Sciltian a 600 euro no guarda Sciltian a 600 euro mi rifiuto perché Sciltian vero del sua collezione privata Carboncino e Biacca andiamo al numero 4 un'opera pazzesca di Sciltian del 55 con quello che sta accadendo su Sciltian questa è un'opera da museo questa è un'opera da museo che ha 4.000 5.000 euro è regalata siamo a 600 euro ed è vostra scordati che la gara su Montanarini siamo in gara su Montanarini allora mi dici che siamo in gara su Sciltian e su Montanarini adesso le vediamo tutte e due le opere allora lo Sciltian è a 600 euro ma vi dico correte 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 pezzo di storia di Sciltian 600 euro per la prima guardate che io lo assegno scusa ma mi hai detto prima lo Sciltian ma mi hai detto prima lo Sciltian ormai abbiamo messo in gara l'opera di Sciltian anche a un prezzo allucinante allora 600 euro per la prima 700 euro 700 euro no ma qui voglio mille telefonate questo è un gioiello questo è un gioiello 700 euro per la prima velocissimi 800 euro 800 euro ma è letteralmente una preziosità 800 euro operas 1.2 1.2 1.2 e io direi addirittura 3.000 4.000 1.2 per la gemma di Sciltian 1.2 per la prima 1.2 per la seconda non fatevi bloccare da quello che sembra un aumento importante rispetto al valore dell'opera siamo a meno di un terzo a 1.200 euro rispetto al valore attuale di quest'opera di Sciltian siamo siamo a meno di un terzo 1.300 1.300 1.300 1.300 per la prima 1.300 per la seconda 1.300 amici io purtroppo devo accelerare perché i quadri sono tanti e voglio arrivare alla presentazione di tutti ma l'opera è da sogno 1.300 per la prima attenzione sento ancora telefonate 1.300 per la prima 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 per la prima 1.500 per la seconda replicate immediatamente 1.500 1.500 a segno stanno rispondendo dimmi 1.955 a segno 1.500 ha segnato via regalato 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 e andiamo su quell'opera di Luigi Montanerini sulla quale mi dice Gabriele c'è siamo entrati in gara siamo in terza offerta e siamo a 800 euro per l'opera di Montanerini siamo a 1.000 1.000 euro 1.000 euro però lasci un attimo per i dettagli no 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 altro che vi do tutto il tempo del mondo un'opera vera storica del 63 58 per 48 deliziosa di Luigi Montanerini parlare di 1.000 euro significa parlare di zero zero assoluto 1.000 euro per la prima dai 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 Montanerini dovrebbe costare almeno quanto turcato almeno quanto turcato ha una storia pazzesca e se andate a vedere le mostre ufficiali di Montanerini siamo a 1.100 per Montanerini quanto 1.100 1.100 una cosa colpa nostra adesso lo pubblichiamo nel crawl i rilanci minimi perché dovremmo andare di 200 in 200 sopra i 1.000 però dato che è colpa nostra che non l'abbiamo scritto per questa lo accettiamo però dopo non l'accettiamo però dalla prossima dopo che lo scriviamo non lo possiamo accettare siamo a 1.200 1.200 per Montanerini anzi ve lo dico ufficialmente fino a 1.000 euro i rilanci devono essere di 100 euro da 1.000 euro a 5.000 di 200 euro da 5.000 a 10.000 di 500 euro da 10.000 a 20.000 da 10.000 in più a 20.000 di 1.000 euro da 20.000 in su del 10% siamo a quanto per il Montanerini 1.100 1.200 1.200 1.200 per il gioiello di Montanerini 1.200 velocissimi velocissimi 1.200 euro 1.400 1.400 ma è splendido è letteralmente superiore 1.400 euro 1.400 per la prima 1.400 per la seconda guardate poi arrivano le altre offerte adesso è arrivata un'altra offerta su Schiltian ma quando è assegnato è assegnato non c'è niente da fare dovete essere dovete approfittare del momento magico dell'assegnazione a 1.400 per quest'opera preziosa di Montanerini 1.400 per la prima 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 per la prima 1.600 per la prima, 1.600 per la seconda, 1.600 euro, poi sicuramente arriveremo a 2.500, 2.800, 3.000, ma troppo tardi, quando sarà già assegnato e siamo a 1.600 euro, questo è il momento di intervenire, 1.600 per la prima, 1.600 per la seconda, Maria ha assegnato a 1.600 euro la gemma di Montanerini. Poi torniamo su Xiaoxin e ti aggiorniamo sulle offerte, torniamola a vedere perché sono un po' di persone sopra, ok? Allora dove vuoi andare? Sul numero 8 e ci sono 3-4 persone sopra. Tutti quanti mi chiedete l'opera di Xiaoxin e tutti quanti mi chiedete l'opera di Willeke, l'opera di Willeke la vogliono tutti, ma vale 5.000 euro quel piccolo gioiello, un grande quadro di Willeke costa 50.000, 60.000 euro, quel piccolo gioiello di Willeke, minimo, 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 5.000, 6.000 euro. Allora siamo sull'opera pazzesca e questa sono orgoglioso di farvela vedere di Xiaoxin, oltre la soglia 2011 43,5 per 68, opera storica di Xiaoxin. Venderla a 8-10.000 euro significa regalarla. Venderla a 10.000 euro significa regalarla. Se non vado errato, se non mi correggono al centralino, è vostra a 2.000 euro? Qual è l'ultima offerta? 2.000 euro, è vostra a 2.000 euro, io non ho parole, io non ho parole, Xiaoxin oltre la soglia 2.000 euro, 2.200 euro, tra l'altro un'opera emozionale. 2.400 euro, 2.400 euro, 2.600 euro. 2.600 euro, 2.600 euro per la prima, replicate immediatamente perché i prezzi che vi stiamo proponendo, anzi i prezzi che state proponendo sono irrisori rispetto al valore. 2.800 euro, ma qui dovrei sentire qualcuno che rompe la serie e dice 7.000 per me, 8.000 per me. Siamo a 2.800, 2008 per la prima, 2008 per la seconda, replicate subito, replicate immediatamente, replicate all'istante. non potete esitare di fronte ad un'opera del genere di Xiaoxin a 2.800 euro. a 2.800 per la prima, questa è una giornata che vi ricorderete, questa è una giornata che vi ricorderete per i prezzi, per i prezzi, per le quotazioni, Xiaoxin introvabile a 2.800 euro. 2008, assegno, dovrei sentire squillare tutti i telefoni, ve lo ripeto, usate il telefono perché la gara deve essere veloce, 2008, la perdete per sempre, Xiaoxin, comprate una litografia questa è una gemma, è una tecnica mista preziosa, tipica di Xiaoxin, siamo a 2008, assegno 1, sta scrivendo? facciamo così, lasciamo 20 secondi? 20 secondi per Xiaoxin, guardate io sono costretto ad assegnare ma è una follia, io sono costretto ad assegnare, ma è una follia, 2008 per la prima, 2008 per la seconda, chi la prende a 2008 è iper fortunato? 3 mila 3 mila 3 mila 3 mila 3 mila 3 mila per la seconda, state buttando via, state buttando via proprio 10 secondi, 1, quando dico 3 è finita, 1, 2, 3, complimenti un milione di volte, ma veramente state buttando via delle opportunità epocali, allora Gabriele dimmi dove devo andare, qual è l'opera che ha raggiunto la terza offerta, vi state concentrando sul Gilardi, sul Tano Festa, sulle opere di Schifano, allora facciamo un giro velocissimo, allora guarda, seguimi, Nido, delizioso, da 6 mila, siamo a 1.200 in seconda offerta, siamo a 1.200 in seconda offerta. Allora, 500 euro prima offerta per la splendida grande opera di Drudi, poi c'è l'Annigoni vero e Annigoni è un artista strepitoso, poi c'è l'opera preziosa di Alberto Sughi, questa è una tela straordinaria di Alberto Sughi, vale almeno 5.000-6.000 euro, guardate la bellezza di questo paesaggio sotto la pioggia di Franco Rognoni, una meraviglia di Rognoni, del 78, 55 per 46, la Parigi storica di Monachesi non è a 4.000 euro, è a 900 euro, il Xiaoshin l'abbiamo appena assegnato, c'è un'opera di Piemonti, questo cromo plastico che aspetta le vostre offerte, c'è l'opera di Wille che vi ho detto sta volando, questo è un quadro da 5.000 euro, le grandi opere di Wille che sono a 30.000, 40.000, 50.000, poi Annopalosuo credo che sia quant'è l'anno Palosuo a 1.500? 1.800, quindi entra in gara a 1.800, ne vale 10.000, è un'opera storica di Palosuo a 1.20 per 80, poi ci sono i due gioielli di Mario Schifano, c'è il monotipo storico 76 per 55,8 ritoccato a mano e quel gioiellino, quella scheggia raffinatissima di Mario Schifano, poi ci sono dei quadri da follia, il più clamoroso dei dipinti di Emilio Tadini, da chiedere minimo 10.000 euro, ma una follia di Tadini del 77 e il mitico Angelo Azzurro, vero autografo storico di Tano Festa, non le opere di Atelier di Tano Festa che comprate a 7-8 mila euro, ma le opere storiche di Tano, quelle che in asta fanno 20.000, 30.000, 50.000, opera da batticuore, opera storica di Tano Festa, da follia, questa dovremmo essere già a 20.000 euro come minimo. Poi un omaggio a Schifano prezioso di Aldo Nicolini, di una poesia straordinaria, è un'opera raffinatissima di Wang Kehua, è un'opera raffinatissima, 60 per 80, storica di Wang Kehua. Egno Finzi, ascoltando Scriabin, quindi una delle variazioni musicali di Egno Finzi, e poi quella stupenda opera di Antonio Murgia, 100% pubblicata in occasione della mostra di Murgia alla Biennale di Venezia. Vediamola, è la numero 21, eccola qua, splendida opera, un metro per un metro, strepitosa. Un'artista introvabile, un progetto dell'inizio del 2000, le opere rivoluzionari di Jonathan Guaitamacchi, quel personaggio della Milano, della Bovisa, del rinnovamento delle grandi città internazionali. E poi, Piero Gilardi da Brivido, oggi un'opera così, 70 per 70, di Piero Gilardi, ad Arte Fiera Bologna, ti chiedono 25 mila euro. Piero Gilardi da Follia, 70 per 70, del 2001, e siamo a 8 mila euro, questo ve lo dico perché è un'opera da 25 e siamo a 8 mila euro, per non parlare della pazzesca grande opera di Liubolin, 75 per 150, ve lo dico, andate ad Arte Fiera a Bologna vi chiedono 25 mila, 30 mila euro, opera pazzesca di Liubolin, opera letteralmente pazzesca di Liubolin. Dove siamo con le tre offerte? Perché voglio assegnare tutte le opere. Allora, abbiamo Palosuo e Wilk in terza offerta. Palosuo è a 1.800 e il Wilk è a 800. Allora, il Palosuo è a 1.800 euro ed è un'opera strepitosa di 1,20 per 80 e per il Marcus Wilk, 40 per 26 storico. Scusa, ma io ho offerto 1.000 euro per il Wilk. La mia offerta non l'hanno registrata. Allora, l'ultima offerta per il Wilk è a 800 euro, 800 euro, ne vale 5.000. Allora, Palosuo storico, non pensate di comprare più opere di anno Palosuo a meno di 6-7 mila euro. Siamo a 1.800 euro ed è uno dei più grandi artisti della figurazione internazionale. 1.800 per l'opera di Anno Palosuo. 1.800 per la prima. Guardate, una volta assegnata l'opera, dimenticate per sempre il prezzo, perché tutte le opere di Anno Palosuo di questo livello, vi chiederò 6.000, 6.500, 5.000, questa è addirittura una delle opere su tela dei mitici sacchi di caffè. E siamo a 1.800 euro. 1.800 per la prima. 1.800. Dai, subito, subito, subito. 1.800. 2.000. 2.000 adesso. Do 20 secondi per replicare, do 20 secondi, ma dovete replicare di corsa. Devo sentire 2002, 2004, 2006, 2008 di corsa. 2.000 per la prima. 2.000 per la... Quanto? 2.4. 2.4. 2.4. 2.4 per la prima. 2.4. 2.6. 2.6. Vedo che squillano i telefoni. 2.6 per la prima. 2.6 per la seconda. Gabriele, c'è replica? Un attimo. Ci sono diverse. Siamo a 2.6 per la prima. 2.6 per la seconda. Un attimo. Ma perdete delle opportunità epocali. 2006. Assegno? Assegnata a 2.6. Proprio iper prezzi allucinanti. Prezzi letteralmente allucinanti. E poi, oh, qui scatenatevi, perché comprate un genio. È una delle memorie, le famose persiane rotte. È una delle memorie tipiche di Marcus Willeck. Questa è un'opera che non ha prezzo. Questa è un'opera che oggi sul mercato internazionale non compri nemmeno a 5.000 euro. non compri nemmeno a 5.000 euro. Siamo ad un prezzo ridicolo a 800 euro per un'opera storica di Marcus Willeck. Siamo a 800 euro. Amici, tocca a voi. 800 euro. È ridicolo. Qui devono telefonare, ecco, se ci vedessero dalla Germania saremmo già a 5.000, 6.000 euro. 800 euro per Marcus Willeck. 800 euro per Marcus Willeck. Mille. Quanto? Mille. Mille euro. Mille euro per la prima è un gioiello, vi dico, non perdetelo. È un gioiello, vi dico, non perdetelo. È letteralmente un gioiello, vi dico, non perdetelo. Siamo a 1.000 euro. Mille euro per la prima. Mille euro per la seconda. Mille euro. Guardate, qui state offendendo la storia dell'arte. Un'opera del genere a un prezzo del genere è un'assurdità totale. Qui veramente stiamo superando ogni limite. Mille e due. Mille e due. Mille e due. Mille e due per la prima. Mille e quattro. Mille e quattro. Mille e quattro per la prima. Velocissimi. C'è un margine enorme. Mille e quattro per la prima. Mille e quattro per la seconda. Replicate al volo. Mille e quattro. Assegnata a mille e quattro. Mi state dando un dolore. Questa è veramente una preziosità. Un acquisto straordinario. Un acquisto clamoroso. Allora, il Gilardi, il Festa, il Tadini, le opere di Schifano, quella gemma di sughi, quelle preziosità di Annigoni. Voglio sentire proprio la vostra partecipazione più assoluta. Il Gilardi è un'opera fondamentale. Quest'opera di festa è una... Amici, datemi retta. Comprate tutte le opere di festa autografe. Qui facciamo un salto verso i 70.000, gli 80.000. Le opere di festa autografe non hanno prezzo. E questa è una delle opere più importanti, il mitico Angelo Azzurro, una delle opere più importanti degli anni 80 di Tano Festa. Tocca a voi. Poi c'è quel Gilardi sul quale stanno arrivando tutte offerte di commercianti. Su quell'opera di Gilardi, ve lo dico, stanno arrivando tutte offerte da commercianti. Allora, Gabriele, dove dobbiamo andare? Se mi fai rivedere, per favore, il Monachesi e il Nido, che sono i più caldi. Allora, oltre all'opera di festa e all'opera di Gilardi sul quale richiamo la vostra attenzione, voglio farvi rileggere al numero 7 quel gioiellino di Monachesi che vai da luce Monachesi, dalla figlia, è un'opera da 5.000 euro. Poi Monachesi veri non ce n'è uno sul mercato. Monachesi veri, Monachesi storico, non ne trovi uno. E poi mi fa venire la pelle d'oca, una delle opere più affascinanti, una delle opere più intelligenti di quel Davide Nido che ha rinnovato il mondo dell'espressione artistica italiana e mondiale. Scomparso, giovanissimo, Davide Nido diventa un mito, diventa una leggenda, diventa letteralmente, sai, quegli artisti che vengono mitizzati come l'Igabue, eccetera. In gara, se te lo voglio farvi vedere, in Monachesi è in gara. Allora, è in gara l'opera di Monachesi a? 1.400? A 1.400 euro. Quella Parigi di Sante Monachesi, gioiellino, olio su tela, è in gara a 1.400 euro. 1.400. Vai a Roma in via del Babuino, lo trovi a 6.000 euro. 1.400 per la prima, 1.400 per la seconda, non fatemi aggiudicare un'opera vera, un'opera preziosa, un'opera di grande qualità di Sante Monachesi a 1.400 euro. 1.400, assegno, 1.400 per la prima, 1.400 per la seconda, a 1.400 euro, assegno quel gioiello di Sante Monachesi. Complimenti, oggi state prendendo delle opere preziose a cifre letteralmente inesistenti. Mi fai vedere Piemonti, per favore? Allora, vi faccio vedere il numero 9 di Lorenzo Piemonti, ma mi raccomando quell'opera preziosa di Davide Nido, ma mi iperraccomando quell'opera assolutamente preziosa di Davide Nido che avete la possibilità di acquisire oggi a un prezzo inesistente. È meraviglioso il Piemonti. L'opera di Lorenzo Piemonti è veramente… no, Gabriele, 500 euro in seconda offerta per il Piemonti. non me lo volevi dire, giustamente. Amici, per fortuna non è in gara, ma seconda offerta, quindi con una terza offerta entra in gara, quell'opera di Lorenzo Piemonti è a 500 euro, è a 500 euro. Entrate in gara immediatamente perché veramente è una follia. Quello che sta accadendo oggi è incredibile, è letteralmente incredibile. Il Davide Nido, quell'opera di Mauro D'Uno… In gara al Piemonti siamo a 700 euro. 700 euro è vostro. 700 euro quest'opera di Lorenzo Piemonti è in gara. Uno dei cromoplastici che hanno rivoluzionato l'attrazione geometrica italiana ed internazionale. A 700 euro. A 700 euro. È assurdo. È letteralmente assurdo. Guardate, mi sono tolto gli occhiali. Questo è quasi un atto di risa. 700 euro. Poi oltretutto una delle opere belle, una delle opere di qualità di Lorenzo Piemonti. 700 euro per la prima. Questa è una giornata che non potrete dimenticare. la segno? Gabriele, ti vedo sconsolato. 700 euro? Ma chiamate, ma chiamate. Un'opera vera. vi fanno pagare solamente la cassetta di plexiglass, ve la fanno pagare 200 euro. 700 euro un'opera del genere di Lorenzo Piemonti. Per la prima. 800 euro. Dai, replicate, replicate, replicate. che sia una gara vera. 800 euro per la prima. 800 euro per la prima. 800 euro. facciamo dibattere. Facciamo dibattere a Maurizio. Sì. Eh, ma c'è tanto di quello spazio che Dio solo lo sa. Dovrei sentire immediatamente la replica. 900. 900 euro. Do ancora lo spazio per la replica. 900 euro. Lorenzo Piemonti. 900 euro per la prima. 900 euro per la prima. 900 euro. Dai. 900 euro per la prima. 900 euro per la prima. Assegniamo a 900 euro. Assegniamo a 900 euro. Ma è letteralmente una follia. È letteralmente una follia. C'è il Davide Nido, il Zughi. Ma poi vorrei concentrarmi sul Tano Festa, sul Gilardi, sul Tadini, sulle opere di Schifano. Vediamo dove ci dobbiamo concentrare. Quell'angelo azzurro azzurro di Tano Festa è una delle opere. Adesso mi devi aggiornare proprio. Come sempre. Adesso mi devi aggiornare proprio sulle opere più importanti, quelle di Gilardi, quelle. C'è quell'opera di Liubolin che è letteralmente un sogno, che è letteralmente un'opera di un'importanza, di una qualità, di un significato straordinario. Ditemi voi, dove andiamo. Mi aggiorni un pochino? Allora, siamo sempre in seconda offerta, sembrava arrivasse la terza, ma ancora non è stato così. Per Nido siamo a 1.200. Nido, rivediamo un pochino tutto. Davide Nido, non possiamo entrare in gara perché manca la terza offerta e siamo a 1.200 euro per quell'opera preziosa di Davide Nido. Se ne trovate una a 5.000 euro vi do un premio, perché non esiste un'opera di Davide Nido così, è a meno di 5.000 euro. Poi, il Mauro Drudi... Drudi, siamo a 500 euro in seconda offerta. Siamo a 500 euro in prima offerta. Scusa, in prima, hai ragione. Siamo a 500 euro in prima offerta e per l'Annigoni... Siamo sempre in prima. Siamo sempre in prima a 1.800. Prima offerta per l'Annigoni a 1.800 euro, ma a differenza di quelli che avete visto in televisione, tutti rigorosamente falsi. Quello è un Annigoni vero. Quello è un Annigoni da 5.000, 6.000 euro. Siamo a 1.800. Siamo a 1.800. E addirittura per la tela di sughi, che è una follia, del 64, siamo a 1.000 euro. No, siamo a 1.500. 1.500. C'è stata una seconda offerta di 1.500. 1.500, ma è seconda offerta. È seconda. 1.500, seconda offerta. Quindi con la terza offerta entriamo in gara. Poi abbiamo 500 euro per Rognoni. Poi per quella tela di Rognoni che io compravo da Caffiso nel 2004-2005 a 4.000 euro, siamo a quanto per i Rognoni? A quanto siamo per i Rognoni? 500 euro in prima offerta. 500 euro in prima offerta. Poi sulle opere di Schifano siamo sotto zero. Siamo sotto zero. Allora, per il monotipo ritoccato a mano. Siamo a 2.800 che li ha presi adesso Maria, ma è ancora lontanissimo da la normalità. Siamo a 2.800 in seconda offerta. Esatto. E 1.400 per la scheggia. E 1.400 in seconda offerta per la scheggia di Mario Schifano. No, Franco, è in prima. Ah, in prima offerta, scusatemi. 1.400 in prima offerta. Amici, per il Tadini non siamo a 8.000 euro. Siamo a 3.000 euro in prima offerta. Siamo a 3.000 euro in prima offerta. 3.2 seconda offerta. Franco, segui me che ti aggiorno. Poi tanto i nostri amici li vedono sul crawl. Tutte le offerte aggiornate i nostri amici le leggono sul crawl. Adesso aggiorno te. Allora, mi ha aggiornato Gabriele, il Tadini siamo a 3.200 in seconda offerta. Opera da 10.000 euro come minimo. Poi per festa siamo a 5.000 euro. 5.000 euro per il festa. Voi non mi date retta. Non mi date retta. A 6, 7, 8.000 euro riuscite a comprare solamente i Tano Festa di bottega. Quando dico bene. Quando voglio essere generoso. Questo è vero. Pensato e dipinto da Tano Festa. Sono quelli che non hanno prezzo. Sono le opere di Tano Festa che non hanno prezzo. Prendetelo di corsa. Questo è un investimento storico che vi porta a decine e decine di migliaia di euro adesso. E queste opere di Tano costeranno cifre paurose. Su Tano ci sarà una revisione totale dei valori. Perché le opere autografe. Io ho visto vendere uno dei grandi specchi d'armadio a 800.000 euro. Questa è la verità su Tano. Prendile le opere storiche. Prendile le opere storiche. Questa è un'opera storica di Tano Festa. Una delle opere più importanti degli anni Ottanta. Poi Nicolini non ha ancora offerte. Nicolini non ha ancora offerte. Non ditemi. Spero che questa prima offerta per l'opera di Juan Keuà sia stata superata. Sì, siamo a 500 euro adesso. 500 euro seconda offerta. 500 euro seconda offerta. Quella delizia di Ennio Finzi. Quella variazione musicale di Ennio Finzi. Quella variazione musicale di Ennio Finzi. Ha offerte. E poi andiamo sull'opera pubblicata in occasione della mostra alla Biennale di Venezia di Antonio Murgia. E poi andiamo sull'opera pubblicata di Antonio Murgia alla Biennale veneziana. E siamo in seconda offerta a 900 euro. È un 100% pubblicato di Antonio Murgia. Poi la preziosità di Jonathan Aguaita Macchi, per la quale aspettiamo ancora offerte. E poi le follie. E poi le follie. Il Gilardi 70-70. Non è a 20.000 come dovrebbe essere. Ma è a 10.500 euro. In gara? Sì. Sì. Dolorosamente in gara. Non a 25.000, ma a 10.500 euro. Ma a 10.500 euro. Piero Gilardi, 70x70, opera preziosa del 2001. Sapete che cosa significa? Che il Gilardi è vostro a 10.500 euro. Fate una capatina ad Arte Fiera a Bologna e ditemi quello che vi chiedono oggi per un'opera di Piero Gilardi così. E chiudo con quella strepitosa opera di Liu Bolin, addirittura a 75x150, per la quale siamo a 10.000 euro in seconda offerta. A 10.000 euro in seconda offerta. Vediamo quello che è entrato in gara. Siamo in gara per l'opera di Davide Nido. Siamo in gara addirittura a 1.400, se non sbaglio. A 1.400, ma è un'opera di cittura. E' a 1.400 il Davide Nido? Sì. Mamma mia. A 1.400 euro è vostra questa gemma di Davide Nido, 40x40, una delle opere storiche di questo straordinario artista. 1.400 euro. Non 5.000, 6.000 come è normale per un'opera del genere di Davide Nido, ma 1.400 euro. Amici, questa è la giornata che ricorderete per tutta la vita. 1.400 euro per la prima, 1.400 euro per la seconda, ma precipitatevi, ma precipitatevi. Quando mai più nella storia delle nostre trasmissioni avrai un'opportunità del genere? A 1.400 euro. Amici, questi sono regali. Questa è una giornata nella quale non un quadro è stato venduto, sono stati tutti regali. E questo è un regalone. 1.400 per la prima, 1.400 per la seconda, un attimo, un attimo, un attimo. 1.600, 1.600. 1.600, devo concedere il tempo per la replica, ma la replica deve essere immediata. Ma la replica deve essere immediata. 1.600 per la prima, aspetto, aspetto. Ma dai, quella gara deve essere viva, immediata, proprio di corsa. 1.600. Non siamo di fronte ad un'opera che vale 3.000 euro. Siamo di fronte ad un'opera che ne vale almeno 5.000. E siamo a 1.600. 1.600. Posso assegnare? 1.600. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800.